Questa notte alle ore 3 una gang organizzata di ladri ha fatto esplodere il bancomat della filiale Biper in località Quadrivio di Campagna, asportando la somma di circa 7.000 euro. Immediate sono scattate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Eboli, che dopo i rilievi del caso si sono messi sulle tracce dei responsabili. Avvenire in soccorso degli inquirenti potrebbe essere il video degli impianti di sorveglianza piazzati nei pressi dell'ingresso della banca. Tale filmato, che mostra con chiarezza l'abilità dei ladri nel far esplodere il bancomat, potrebbe fornire informazioni importanti sull'identità dei membri della gang.